Il terremoto di Linera, centesimo anniversario. E' stato presentato questa mattina nell'Aula Consiliare del Palazzo di Città di Santa Venerina il programma delle iniziative organizzate in occasione della ricorrenza del centenario del Sisma che nel 1914 colpì i centri abitati di Linera ma anche Maria Vergine, Bongiardo e Cosentini. Un'iniziativa per commemorare e ricordare le 69 vittime di quel terremoto ma anche per riflettere sull'importanza della prevenzione sismica, unica difesa da eventi così catastrofici. Domani, dopo l'annullo postale, sarà inaugurata alle 19 nella casa del vendemmiatore la mostra curata da Maria Assunta Vecchio Maugeri di documenti, immagini e testimonianze dell'8 maggio del 14 un modo per approfondire attraverso la cronaca di quel giorno quello che è accaduto un tragico avvenimento che coinvolse anche la stampa locale ma anche quella nazionale. Sabato invece alle 10 si svolgerà un convegno scientifico dal titolo Microzonazione Sismica, la conoscenza per la prevenzione durante il quale interverranno esperti e tecnici di protezione civile dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia docenti universitari e professionisti nel settore della costruzione sempre sabato alle 19 nella casa del vendemmiatore sarà presentato il libro di Sebastiano Gesù dal titolo Il terremoto di Linera infine domenica nella chiesa di Santa Maria del Lume verrà celebrata una santa messa in suffraggio dei cittadini che l'8 maggio del 1914 persero la vita sotto le macerie delle proprie case grazie a tutti